Angela Osti per Rovigo Indiretta La stazione delle Corriere qui allo Scalomerci non decolla, mancano i finanziamenti, sentiamo cosa ne pensano i nostri cittadini Stazione delle Corriere dal 2002 è lì a Piazza Le Cervi, anche se la posizione doveva essere temporanea Ma la soluzione dei bus spostati all'ex Scalomerci non decolla neanche adesso, tu cosa ne pensi di questa situazione? E' molto problematica perché appunto entrare e uscire quando ci sono appunto i pulmi in orari di scuola è molto difficoltoso Insomma bisogna stare molto attenti, si spera che prima o poi si trovi una soluzione e quella dello Scalomerci sarebbe l'ideale soluzione Altro non saprei cosa dirle Che a 6 ore che appena la storia, o io fa o non io fa, tutto lì Questa potrebbe essere una posizione perfetta? Sì Vicino alla stazione e anche diciamo distante dal traffico della città? Sì perché la stazione di una volta, 40 anni fa è a Garobina, ma in tutti i casi Allora non è un problema che mi tocca in prima persona perché non utilizzo la corriera So insomma di questa problematica che va avanti da anni E io dico solo che è un po' come una serie di altre cose che anche a livello comunale non funzionano E che sono rimaste indietro e che presumo che insomma la cosa si protrarrà per lungo tempo Come ripeto, tutto il resto Guardi, finanziamenti per me ci sono Solo che non vogliono tirarli fuori Comunque davanti a una chiesa e vedere tutte quelle corriere lì è una vergogna Anche perché qua manca un funerale o qualcosa È un casino anche come parcheggio con le macchine per la gente Se la fanno qua vicino alla stazione dei treni è più comoda È come a Padova Padova escono, hanno la stazione dei treni, corriere, autobus Anzi sarebbe una bella idea Anche perché anche per la gente che a volte scende qua e mi dica ma la stazione dei corriere Allora, gli insegni vanno ma è molto scomoda la stazione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti